Buonasera e benvenute, benvenuti a questa nuova puntata di A Tu per Tu. Questa sera abbiamo un ospite che ci farà attraversare un mondo che è particolarmente affascinante come quello del teatro. Stasera è con noi Marcello Corvino, grazie di aver accettato il nostro invito Marcello, di essere artistico del Teatro Comunale a Bado di Ferrara, ormai naturalizzato ferrarese posso dire? Sì, vivo a Ferrara. Quindi è nato un attrazione reciproca tra il pubblico ferrarese del Teatro Comunale e Marcello Corvino che oltre ad essere direttore artistico del Teatro Comunale è persona, posso dirlo, che è un'impressione mia, soggettiva, che frequenta volentieri la città nelle sue varie realtà per conoscerla, per ambientarsi. Ho avuto questa impressione? Sì, mi piace moltissimo. Io abito a Bologna dal 1986 e da luglio 2021, dopo un anno che mi sono reso conto che è una città bellissima, meravigliosa, misura d'uomo, è una città che accoglie. Ho deciso di trasferirmi a Ferrara e sono molto contento di questa scelta. È una città che ama la cultura, è una città che ha rispetto per il suo rispetto e orgoglio, per il suo grande patrimonio culturale. Io mi sono sempre occupato di cultura, quindi mi sembra che questa città sia un bel posto per vivere. Bene, sai che si dice che i ferraresi non si rendono conto, diciamo, del valore della città e abbiano bisogno che qualcuno dall'esterno glielo dica, glielo faccia capire. Quindi siamo contenti che tu oggi faccia questo, come dire, stelogio, diciamo, di una città che ci appartiene, che amiamo tutti anche noi, ma del cui valore non ci rendiamo spesso conto. Ma parliamo di teatro, come abbiamo detto. Teatro Comunale Abbado che siamo ormai alle soglie della nuova stagione, no? E iniziamo proprio in questo weekend, il teatro inizia con la stagione di danza e inizia con un festival di danza contemporanea che proprio questa sera, venerdì, 8 settembre, avrà una sorta di anteprima festosa. Ce ne parli? Sì, anteprima festosa, esatto. Abbiamo pensato, questo è il secondo anno, di iniziare il festival di danza contemporanea con una festa, con la festa di tutte le scuole del territorio ferrarese, non solo di Ferrara, vengono da Vigarano, da Copparo. La provincia. Sì, in realtà alcune scuole sono anche su Bologna, quindi è una grande festa alla quale partecipano 12 scuole, perché, questa è una mia riflessione personale che ho condiviso con l'assessore Guglinelli, è un festival di danza, ha senso se è in un territorio dove la cultura della danza è diffusa e secondo me deve essere, visto che si tratta di soldi pubblici, bisogna avere un grande rispetto dei soldi pubblici, perché sono i soldi dello sforzo di tutti noi, del lavoro, dell'intelligenza di tutti noi. Allora, un festival, perché investire dei soldi in un festival? Perché deve servire a fare crescere quella comunità, a fare migliorare la qualità della vita, la bellezza, fa migliorare la qualità della vita e tantissimi ragazzi che fanno danza creano una città dove vale la pena di vivere. E sono tutti i tipi di danza, cioè c'è la danza classica, c'è la danza moderna. Noi la distinzione per generi non è una cosa che ci piace, no. Esistono, ne parlavamo prima della, Luis Bakaloff dice la musica colta, la musica non colta, no, esiste la musica bella e la musica brutta. E così la danza. Esiste la danza che è bella e la danza che è brutta. Certo, perché poi ognuno ha i propri gusti personali, diciamo sia noi come fruitori, sia alle scuole di danza, i ballerini. Ecco, ci sono molti giovani in queste scuole di danza. Tantissimi, meraviglioso. E noi, l'idea è cercare di fare in modo che un numero più alto possibile possa fare danza, possa fare musica, possa fare sport. Adesso ci stiamo occupando di danza. E soprattutto un festival dove loro possono vedere cosa fanno i grandi che vanno in giro per il mondo. Quindi, non so, ci sarà la prima mondiale di Wim van de Keibus, che è un artista che è già stato tante volte a Ferrari, che io ammiro, adoro. È un'esplosione di intelligenza, di bellezza. Ci sarà la prima mondiale, lui lavorerà qui un mese e quindi ci sarà la possibilità per questi ragazzi di vedere la danza con la D maiuscola. Perché qui farà le prove, prepara la sua prima mondiale. Avremo cinque anteprime. Cinque anteprime che adesso ci dirai. Perché una caratteristica del teatro sono proprio le prove, cioè è la genesi dello spettacolo teatrale. Il teatro che è, come dire, uno spettacolo che viene in uno spazio particolare, privilegiato, ma può venire anche sulla strada, il teatro di strada, ha di caratteristica che, come dire, è una forma chiusa di arte che persegue il bello. Quindi le prove sono importantissime. Beh, quello è, non so, come sai, da quando sono arrivato il teatro ha iniziato a produrre, perché secondo me è quello il bello. Certamente ospitiamo spettacoli di giro, però la cosa più bella, più emozionante è quella di produrre, la soddisfazione di produrre un Don Giovanni con questi ragazzi meravigliosi e portarlo dall'altra parte del mondo. Oppure le opere di progetti che stiamo facendo sulle opere di Vivaldi, che adesso porteremo in Germania, a Bayreuth. E questo è il bello, cioè fare nascere un'idea, realizzarlo, grazie ai meravigliosi collaboratori e artisti che abbiamo in teatro. C'è una squadra di 44 persone meravigliose, questo va sottolineato. È una macchina importante. Sì, io come direttore artistico posso avere delle idee, ma poi se non ho una squadra di grandissimi professionisti che dà la contrattualistica alla logistica, alla proprio realizzazione delle scene, noi riusciamo a fare tutto, riusciamo a realizzare, a disegnare le scene, a pensare, a disegnare i costumi, a realizzare i costumi. C'è un tasso di creatività già nel teatro, anche prima dello spettacolo. Sì, sì, sì. E quindi, niente, noi erano, insomma, per 15 anni, 20 anni il teatro ha smesso, dopo Abado ha smesso di produrre e questa scelta ci ha premiati, perché a metà agosto è uscita la classifica del Ministero relativa ai teatri di tradizione e per qualità artistica noi abbiamo avuto il punteggio più alto, 26,5, a pari merito con la fondazione Haydn di Trento e Bolzano, che sono questi due teatri. Quindi noi abbiamo fatto il primo anno che sono arrivato, io sono arrivato a maggio 2020. Nel 21 eravamo al terzo posto, nel 22 al secondo posto e nel 23 al primo posto. Abbiamo impostato una politica a lungo termine che ha dato dei risultati. Adesso i punteggi e le classifiche valgono se poi dopo c'è la sostanza. Cioè queste classifiche, rispetto alla gestione precedente del teatro, noi riceviamo oltre 180 mila euro in più dal Ministero. Grazie a questo piazzamento? Eh sì, perché il finanziamento ministeriale è relativo ai punteggi che ottieni nelle varie classifiche. Noi su 13 parametri, su 8, su 13 siamo eccellenti. Uno di questi è la qualità artistica. In base a questi parametri ci sono dei meccanismi matematici che ti fanno scattare dei finanziamenti in più. Quindi noi, questo lo vedi anche dai bilanci del teatro che sono pubblici, rispetto al 2019, che è l'ultimo anno della gestione precedente, io sono arrivato nel 2020, percepiamo 180 mila euro in più dal Ministero. Per esempio dove abbiamo fatto passi in avanti e anche nella danza, perché rispetto al 2019 riceviamo 42 mila euro in più. Adesso queste cose sono importanti. Diciamo che la danza a Ferrara ha avuto una specie di trampolino di lancio nel passato, quindi diciamo c'era già una bella tradizione. Voi avevate la responsabilità di portarla avanti altrettanto degnamente. C'era un'ottima tradizione a Ferrara e grazie alla quale noi siamo riusciti a fare qualche passettino ancora in più, quindi ricevere più fondi e fare delle cose più ambiziose. quindi una buona idea che ha premiato è stato quello di dividere in due il festival, fare la prima parte in site specific, cioè a Palazzo dei Diamanti, a Palazzo Schifanoia dove ci sarà Terballetto, a Palazzo dei Diamanti ci sarà la Maggi Pinto. Quindi proprio occupare la città con la danza. Noi è un'altra politica che stiamo condividendo col comune che ho voluto fortemente, che devo dire il comune mi ha appoggiato tantissimo, cioè il sostegno è quotidiano da parte del comune e il teatro deve essere capace di uscire e di andare, di portare in giro per la città e la sua capacità produttiva. Gli spazi sono comunque molto belli perché sono palazzi artistici, storici, monumentali. Aggiungi bellezza e bellezza. Certo. Ecco, dicevi cinque prime nazionali. Sì, anche mondiali, non so per esempio sabato e domenica, quindi domani e dopodomani potrete vedere la prima assoluta di Roberto Tedesco che ha fatto una residenza in teatro da noi con le sue danzatrici, i suoi assistenti eccetera eccetera e ha concepito questo spettacolo che farà il giro per il mondo. Adesso Roberto Tedesco non è conosciuto al grande pubblico, però nel mondo della danza questo spettacolo che nasce a Ferrara farà il giro del mondo. Così come lo spettacolo di Wim van de Keibus o come quello di Artemis Danza che è un progetto triennale che abbiamo fatto contro la violenza sulle donne. E quest'anno lo spettacolo sarà Inside Callas, sarà dedicato a Maria Callas. L'anno scorso abbiamo fatto Corpi Violati. Cioè, dobbiamo darci da fare. Ecco, la città sta reagendo bene, cioè c'è partecipazione anche dell'associazione e come sta andando il pubblico? Guarda, abbiamo un dato, per fortuna adesso che ci siamo messi alle spalle il Covid, facendo i dovuti scongiuri, finalmente abbiamo dei dati reali, cioè il 2023 è un anno senza Covid, quindi abbiamo dei dati certi. Noi il 6 giugno del 2023 abbiamo raggiunto lo stesso fatturato in termine di vendita di biglietti dell'intero 2019. Quindi noi nel 2023 saremo ormai, cioè io non c'è bisogno di fare scongiuri perché ormai la cosa è certa, al 6 giugno avevamo il fatturato, lo stesso fatturato, nel 2019 il fatturato era 550 mila euro, invece no, all'8 giugno eravamo già 580 mila euro. Quindi poi adesso c'è stata la campagna abbonamenti. Ma avete aumentato il costo dei biglietti? No. No. Quindi a parità? No, è quello del 2019. Il costo dei biglietti è quello del 2019, questa è una cosa che ho voluto, allora la politica è questa, non bisogna aumentare il costo dei biglietti, bisogna aumentare il numero degli spettatori. Ecco, ed è aumentato? Sì. Sta aumentando. Ecco, io noto che c'è questa attenzione grande verso i giovani perché ci sono state le iniziative molto simpatiche, i bambini che hanno dormito, hanno passato la notte in teatro, i bambini che dirigono l'orchestra, quindi c'è una grande, come dire, collaborazione con tutto il mondo della formazione, i ragazzi delle scuole superiori che fanno, come sappiamo bene tu e io, prima della prima in tv, quindi ecco, attenzione per i giovani perché il teatro deve essere portato, i giovani devono familiarizzare prestissimo col teatro, è così? Allora, intanto volevo dirti che per il consiglio d'amministrazione, da Michele Placido a tutti i consiglieri, questo progetto di prima della prima in tv con telestenze è una cosa che ci riempie di orgoglio, però non basta l'orgoglio, ci vogliono anche i dati poi, cioè, che... e noi siamo stupiti dal senso di meraviglia che accoglie questi ragazzi, la maggior parte dei quali non sono mai entrati in teatro, nel momento in cui entrano in questa sala meravigliosa, è lo stupore di questi ragazzi di fronte a repertori dei quali non sanno nulla. Per chi non ha visto, purtroppo, e li invitiamo a vedere, prima della prima in tv, quando inizierà la nuova stagione, si tratta di spettacoli, di opere liriche. Ah sì, sì, sì. Quindi diciamo, è anche... Noi, vedere le sale del teatro piene di ragazzi per vedere il rigoletto, ma non il rigoletto originale, non fatta a favola, no, il rigoletto originale, o vedere i ragazzi, centinaia di ragazzi che vengono a vedere le opere di Antonio Vivaldi, per noi è... giustifica i nostri lavori, le nostre tensioni, i nostri sforzi, solo quello è davvero... ti apre il cuore. Puoi vedere questi ragazzi, tu lo sai, perché segui tutto, parlare di Vivaldi, di Puccini... Io mi sono stupita quando ho sentito i ragazzi di un liceo linguistico parlare in tedesco, cioè utilizzare, diciamo, la propria formazione scolastica per entrare nel vivo del testo di di un autore tedesco, quindi... Poi abbiamo iniziato trasmissioni con dei ragazzi che suonavano, mi ricordo questa pianista meravigliosa, 17enne, che suonava una delle cose più belle che ha scritto l'uomo, che è l'intermezzo della Manon Lescaux, questa ragazza suonava meravigliosa. Allora, Marcello Corvino, direttore artistico, ma anche artista, violinista. Sì. Ma come hai fatto a diventare violinista? Da dove nasce questa vocazione, questo obbligo della famiglia? Raccontaci un po' di te. Allora, mio padre è ingegnere, mia mamma è casalinga, quindi nessuna... Particolare, diciamo, passione familiare. Però mia mamma, insomma, è una persona molto intelligente e curiosa, quando avevo nove anni mi chiese... siccome ero molto vivace, allora mia mamma doveva tenermi sempre occupato perché ero troppo energico. Allora mi disse, vuoi studiare uno strumento? Io dissi di sì e lui mi chiese quali? Io dissi la batteria, dice non se ne parla altrimenti tutto il palazzo ci dichiarerà guerra. La tromba, idem con patate, il violino. Sul violino abbiamo trovato un accordo e come ti dicevo però è stato per me all'epoca, io sono nato nel 68, quindi stiamo parlando del 77, a 9 anni, 77. Però per me era più facile fare queste scelte perché io quando accendevo la tv, e all'epoca non c'era internet, c'era la tv, sentivo subito dopo il telegiornale dell'una e mezza, quindi alle due, c'erano le elezioni di Roman Vlad, le elezioni di Leonard Bernstein, e poi in tv sentivi Pasolini, e poi sentivi Umberto Eco. Ci stai dicendo che vivevamo in un altro mondo in cui la cultura aveva una sua, come dire, presenza costante, importante, il più importante mezzo di comunicazione di massa che è la RAI, non è semplicemente la televisione, è la RAI. era la più grande istituzione culturale, cioè dovrebbe esserla anche adesso, comunque. E quindi, mi ricordo in prima serata le opere. Certo. Le opere liriche. Le opere liriche, c'era il teatro in prima serata. Quindi questa carriera che ho fatto è stata stimolata grandemente dai mezzi di comunicazione, e da quello che avevo... E oggi invece? E oggi ci rendiamo conto che c'è una omologazione molto grande. Non voglio dire che è meglio o è peggio. Io dico, per il percorso che ho fatto, adesso vedo che c'è una grande omologazione, perché quello che ascoltiamo è tutto uguale. Cioè, vai in un bar e senti quella musica, accendi la radio e senti quella musica, accendi la tv e senti quella musica. Quindi è molto più facile che un ragazzo adesso conosca Elettra Lamborghini che Verdi. Mentre per me è stato più facile ascoltare Verdi di... Io non sto dicendo cosa è meglio, cosa è peggio. C'è anche il Festival di Sanremo in televisione. Ma sai, io non ho nulla a incontrare rispetto al Festival di Sanremo, però io voglio avere la possibilità di ascoltare Puccini e il Festival di Sanremo. Poi dopo deciderò cosa mi interessa di più, cosa mi interessa di più, oppure se ascoltare le due cose. Certo. Perché per me la cosa più importante è avere la possibilità di scegliere. Di scegliere, bisogna avere la possibilità di scelta. Invece vedo che c'è una grande, grande, grande omologazione e uniformità. Questo non va bene. E' la morte dell'arte. E' la morte dell'arte. E' la creatività. E' cose diverse. E' l'esaltazione della differenza. Bravo. Mi piace questo discorso della diversità e della differenza perché è di grandissima attualità. Hai detto delle parole molto importanti. e cioè hai parlato di omologazione come aspetto negativo della nostra società odierna. Hai fatto l'elogio della differenza e della diversità. Credo che siano parole che devono entrare nel discorso pubblico. Allora, a proposito delle stagioni di prosa, di lirica, quella di Danza che è stata presentata e che sta per iniziare, la concertistica che poi inizierà ad ottobre, credo. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare quest'anno dal Teatro Comunale a Bado e poi finiamo, concludiamo questa conversazione con un invito che ti chiedo di fare al pubblico perché venire a teatro. Allora, noi abbiamo fatto uno sforzo, abbiamo praticamente quasi raddoppiato l'attività del teatro e l'abbiamo fatto anche perché in teatro c'erano molte persone che avevano contratti saltuari e io penso che per fare una buona azienda i lavoratori debbano essere contenti e devono essere pagati con un giusto salario, un salario giusto proporzionato al fatto di avere una vita dignitosa e proporzionato anche alla capacità che esprimi. Questa è la politica del teatro. Del diaigente, del manager. Noi abbiamo fatto un patto con il sindacato, abbiamo detto, lavoriamo di più per aumentare la qualità della vita dei lavoratori. Quindi noi producendo di più, perché tengo tanto a dire abbiamo avuto 180 mila euro in più. Cosa avete fatto con quei 180 mila euro in più? Dieci lavoratori a tempo determinato, adesso sono a tempo indeterminato, su 44. Se i lavoratori che avevano già un contratto hanno avuto un avanzamento di carriera, quindi bisogna, abbiamo detto, facciamo di più e in questo devo dire che i lavoratori sono stati straordinari, anche il sindacato è stato straordinario, perché noi abbiamo detto facciamo di più e miglioriamo la qualità dei lavoratori. Quindi abbiamo fatto di più. Nella prosa siamo passati a 24 titoli, prima ne erano 12, adesso ne sono 24. E nella danza anche abbiamo fatto di più, abbiamo diviso in due, abbiamo aumentato il numero delle repliche. Adesso siamo circa 33 alzate di sipario praticamente, quasi raddoppiate. E con la lirica idem, adesso presenteremo il 4 ottobre, abbiamo la conferenza stampa, dove presenteremo una stagione che per la prima volta avrà due coproduzioni internazionali, una con la Germania e l'altra con la Corea. E avrà prime assolute, avrà produzioni del teatro, penso che ci saranno sei produzioni originali del teatro nella prossima stagione lirica. Non voglio dire niente sulla qualità, perché ovviamente noi cerchiamo di proporre il meglio che ci è possibile. Questo lo dirà il pubblico, se la qualità sarà buona o cattiva. Posso soltanto dire che noi stiamo facendo dei grandissimi sforzi con tutta la squadra del teatro. E niente, insomma, noi pensiamo di proporre ai ferraresi il meglio che possiamo. Ecco, in un teatro che ha comunque delle maestranze che ci vivono bene, ecco, oltre che essere di livello buono. Per viverci bene bisogna aumentare, bisogna che abbiano una retribuzione giusta. Certo. Allora, perché i ferraresi, nel senso di provincia o di città, devono venire al teatro comunale a Bado di Ferrara? Devono venire a teatro perché devono sostenere un gioiello che è patrimonio dell'umanità, il teatro di Ferrara. Il teatro di Ferrara è dei ferraresi, il teatro comunale di Ferrara è dei ferraresi dal 1798. E' stato tenuto come, giusto che venga tenuto, cioè come un gioiello. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa in più, di dare più visibilità anche all'estero. Le trasmissioni in streaming delle opere che abbiamo fatto di Mozart e di Vialde sono state viste dagli Stati Uniti, al Giappone, dalla Corea al Canada, è giusto che il teatro contribuisca a consolidare e a sviluppare la bellezza di una città che è guardata in giro per il mondo come un gioiello. Quindi i ferraresi hanno il dovere di sostenere anche, oltre a tutto il resto, anche il teatro comunale di Ferrara perché è di loro proprietà e... Ma anche il diritto, come dire, di godere del teatro e anche di usufruire, diciamo, degli stimoli culturali che dà il teatro, che oggi è tanto importante, come ci hai detto anche tu. Io non riesco a concepire una vita senza la musica, senza il teatro, senza la danza, senza l'opera. Io non potrei vivere senza questo. Sì, è una vita. Non potrei vivere, quindi, però questo sa va a san dire, secondo me, dal punto di vista, cioè oltre al fatto di entrare in contatto con la bellezza, con l'intelligenza, con la creatività, c'è anche il dovere, diciamo, sociale di sostenere una cosa che deve essere vanto della città. I ferraresi devono sentirsi orgogliosi di quello che hanno, quello che hanno ereditato dal passato e devono, l'hanno ereditato dal passato, ma non basta, bisogna continuare a valorizzare quello che hanno usato. Perché è la grande responsabilità che hanno tutti quelli che dirigono e gestiscono poi il teatro. Esatto. Ti ringrazio di questa appassionata, diciamo, presa di posizione a favore del teatro, come giusto, visto che tu ne sei direttore artistico, e noi ci uniamo naturalmente all'invito e all'esaltazione, all'appello di Marcello Corvino perché tutti possano usufruire della bellezza del teatro. Vi ringraziamo dell'attenzione e io ringrazio Marcello Corvino. Grazie, ci rivediamo con Prima della Prima in TV a novembre. Certo, e noi faremo pubblicità anche per questo spettacolo che è teatro, televisione e scuola. Ragazzi, formazione. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie.